che poi vedete torno a che anno sono le quattro e c'è gli evangelisti si, gli evangelisti sono qua Marco, Giovanni, Puglia, Giacomo Luca lo vedete con il quadro, c'è la Madonna per esempio, ci sta poi ci sta San Gregorio poi ci sta San Martino che potrebbe essere poi ci sta San Girolamo e poi c'è il evangelista non è San Antonio no, 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 questo è San Antonio di Padre di Sant'Antonio a Padre San D'Antonio San D'Antonio, il famoso San D'Antonio esatto si, queste poi sono le leggende che hanno contornato la vita del santo, capito, le tentazioni questo è San D'Antonio che è morto sui la Tafalco, non si vede più esatto l'altare del 1600 perché i ricciardi, una volta acquistita la cosa non si vede quindi sono stati restaurati quindi sono stati restaurati